Cantine Ciro Marina significa territorio DOC, l'area DOC più estesa e più importante della regione anche in termini quantitativi. Voi siete legati al marchio DOC Ciro? Siamo legatissimi al marchio Ciro DOC ma come tutta la mia famiglia siamo legatissimi proprio al territorio e che ci preggiamo di seguire tutta la filiera produttiva della nostra produzione dei nostri vini Ciro DOC quindi partiamo dalla cura dei vigneti e la lavorazione dei vini in cantina e alla commercializzazione. Il segreto per fare dei vini di altissima qualità è sicuramente la cura maniacale di tutti questi procedimenti. Senz'altro possiamo parlare per le vostre produzioni di filosofia della filiera corta. puntate sui vitigni autoctoni che sono il Gaglioppo, il principe dei vitigni autoctoni del Ciro Taro. È fondamentale che noi puntiamo e investiamo sui vitigni autoctoni perché sono l'unica arma che abbiamo per emergere nel mercato. Il Ciro attualmente rappresenta una piccolissima produzione a livello mondiale che noi dobbiamo esplodere e distribuire in tutto il mondo.